Caserme Verdi è il progetto messo in campo dall'esercito italiano. Il fine è quello di ammodernare le infrastrutture militari presenti sul territorio. In questa idea di rinnovo degli spazi rientra anche Lecce. L'intervento infatti riguarderà la caserma Floriani di Torre Venere, sita tra le marine di San Cataldo e Frigole. Il progetto a livello nazionale mira la creazione di spazi abitativi, zone studio e addirittura asili, oltre che spazi destinati alla pratica dello sport. Difficile pensare che a Lecce il riva all'Adriatico possa sorgere una struttura di questo tipo ma l'esercito si accomoderà presto intorno ad un tavolo con il comune di Lecce che ha scelto di coinvolgere anche l'Ateneo Salentino per realizzare quella che è a tutti gli effetti una riqualificazione ambientale di un'area che da troppo tempo non è a disposizione dei leccesi che finalmente potrebbero fruire di un tratto di litorale da tempo desiderato da molti ma sempre interdetto per la pratica militare. La caserma Floriani infatti è nota in Europa per la sua scuola di carismo uno dei siti più ammiti di tutto il continente che oggi sembra però essere destinato finalmente a cambiare volto.